Ciao, io sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Benvenuti nel secondo video della serie dedicata a Vim. Nello scorso video vi ho un po' introdotto a Vim e abbiamo giocato un pochettino col giochino online Vim Adventures. Oggi vedremo di muovere i primi passi tramite il Vim Tutor che viene pre-installato se avete già installato Vim. Se ancora non l'avete fatto date sudo apt install Vim su distribuzioni basate su Ubuntu oppure su Debian oppure sudo pacman trattino S maiuscola Vim se siete su una distribuzione basata su Arch oppure ancora sudo dnf install Vim se siete ad esempio su Fedora. Comunque do per scontato che avete già installato Vim e quindi potete avviare il Vim Tutor con il comando Vim Tutor. Ed ecco che si è avviata la guida. Benvenuto alla guida all'editor Vim. Vim è un editor molto potente e ha parecchi comandi troppi per spiegarli tutti in una guida come questa. Per seguire tutta la guida avremo bisogno di circa 25-30 minuti e tanta sperimentazione. avevamo già visto tramite il giochino che è possibile utilizzare le frecce direzionali quindi ci possiamo spostare con le frecce direzionali ma è consigliato utilizzare i tasti H, J, K, L quindi mi muovo in basso con il tasto J. Adesso nella lezione 1.1, movimento del cursore, ci verrà spiegato proprio questo. Il tasto H è per muoversi a sinistra, il tasto L è per muovere il cursore a destra, il tasto J, ricordo una freccia in giù, quindi è per muoversi in giù, il tasto K è per muoversi in su. Se non siamo sicuri del tasto che abbiamo premuto possiamo premere ESC per andare in modalità normale. Vi avevo accennato al fatto che Vim è un editor modale a diversi modi e ogni volta che premiamo il tasto ESC andiamo in modalità normale. Comunque noi ci spostiamo tramite il tasto J in basso e arriviamo alla lezione 1.2, uscire da Vim. Anche questo vi avevo detto nel primo video. Per uscire da Vim innanzitutto premiamo il tasto ESC per essere sicuri di essere in modalità normale e poi se non vogliamo apportare modifiche andiamo con due punti Q e punto esclamativo. Premiamo invio ed ecco che siamo usciti. Quindi riscriviamo Vim Tutor, ripartiamo dal capo, andiamo in giù alla lezione 1.2 e continuiamo a leggere. Quindi due punti Q, punto esclamativo, scarta qualsiasi modifica fatta. Adesso impareremo anche come salvare le modifiche. Comunque ve l'avevo anche già detto io. Lezione 1.3, modifica di testi. Premere X per cancellare il carattere sotto al cursore. L'avevamo fatto anche nel giochino Vim Adventures. Allora, correggiamo gli errori. La mucca saltò fino alla luna. Cancelliamo questa O, cancelliamo una N e una O, cancelliamo la A, cancelliamo le due N. Ah, e c'è anche una M in mucca. Va bene, credo di averlo già corretto. La mucca saltò fino alla luna. Ora che la linea è corretta vai alla lezione 1.4. Quindi scendiamo alla lezione 1.4, modifica di testi. Premi I per inserire del testo. Allora, muovi il cursore alla prima linea qui sotto, indicata da questa freccia. Ok, c'era del testo. Non riesco nemmeno a leggerlo. Comunque dobbiamo correggere questa linea. Ci spostiamo dopo la T. Premiamo la I. Ed ecco che adesso siamo in modalità Insert. In questa modalità possiamo adesso inserire del testo. Inseriamo la E. Quindi c'era del testo. Premiamo ESC per ritornare in modalità normale. E ci spostiamo nella prossima parola. Sulla prossima parola c'era del testo mancante. Quindi facciamo la stessa cosa qua. Ci mettiamo sulla N. Premiamo I. Aggiungiamo la A che verrà messa prima della N. Mancante. Ho truccato un po'. Ho utilizzato le frecce direzionali per muovermi addirittura in modalità inserisci. C'era del testo mancante. Ah, dobbiamo scrivere da questa linea. Quindi da, spazio, questa, spazio, linea. Ok, abbiamo corretto. Quando sei a tuo agio vai alla lezione 1.5. Spostiamoci in basso. Ancora modifica di testi. Premere la A maiuscola per aggiungere il testo a fine linea. Quindi ci mettiamo qua. C'è del testo che manca da questa linea. Quindi scriviamo. Ho premuto la A maiuscola. Saremo in modalità inserisci ma andremo, il cursore si sposterà a fine linea. Per farci aggiungere del testo a fine linea. Quindi questa linea. Ok, anche qui c'è del testo che manca qui. Bene, andiamo in basso. Modificare un file. Prima siamo usciti tramite due punti Q. Senza salvare le modifiche. Adesso vogliamo salvare le modifiche. Quindi. Andiamo con due punti. W, Q. Perfetto. Abbiamo salvato le modifiche. Adesso se riavviamo il vim tutor. In realtà non vediamo che le modifiche sono state salvate. Perché? Perché il vim tutor, come accennato, crea una copia di questo file. Quindi in realtà abbiamo apportato delle modifiche su una copia temporanea. Ma non importa. Abbiamo comunque imparato come uscire da vim e salvare le modifiche. Quindi, scorriamo in basso e andiamo alla prossima lezione. Ah, qua c'è il sommario. Vabbè, direi di saltarlo. E passiamo alla lezione 2.1. Batti, D, W per cancellare una parola. Adesso la W sta per word, per parola appunto. Quindi tutto ciò che facciamo con W è inerente ad una parola. Se premiamo solo la W, ricordate, ci spostiamo all'inizio di una parola. Ad esempio, vado su questa riga, mi posiziono sulla C, se premo W, mi sposto sempre all'inizio della parola successiva. Va bene, ma non è questo l'esercizio che dobbiamo fare. Cancellare è piuttosto posizionarci all'inizio di una parola e premere D, W. Cosa sta... D, cosa significa di? Cancellare. Quindi cancelliamo una parola. D, W cancella la parola. Ok, quindi stiamo cancellando tutte le parole. Andiamo avanti. Ripeti i passi 3 e 4. Ah, vabbè, c'era da correggere la frase. Allora, vediamo un po'. Ok, ci sono le alcune parole. Cancelliamo l'articolo le. Ci sono alcune parole. Gioia lo cancelliamo anche. Che non c'entrano. Carta lo cancelliamo anche. In questa frase. Ok, andiamo avanti. Altri comandi di cancellazione. Batti D è il segno del... cos'è? Del dollaro per cancellare fino alla fine della linea. Abbiamo imparato che V sta per parola. D sta per eliminare. Il segno del dollaro sta per fine della linea. Quindi se cancelliamo da un certo punto fino alla fine della riga, lo facciamo con il segno dollaro. Se premiamo solo il segno dollaro, ci sposteremo a fine riga. Vedete? Ok, lo faccio anche qua. Premo il segno dollaro. E mi sposto a fine riga. Ok, allora cosa c'è da fare qua? Muovi il cursore fino alla linea qui sotto. Va bene. Qualcuno ha battuto la fine di questa riga due volte. Linea due volte. Quindi ci mettiamo qua. A e con D, segno del dollaro, cancelliamo il superfluo fino alla fine della riga. Andiamo in giù. Operatori e movimenti. Molti comandi di modifica testi consistono in un operatore e un movimento. Il formato del comando di cancellazione con l'operatore D è il seguente. D, movimento. Per movimento si intende ad esempio parola con W o segno del dollaro per spostarsi a fine riga. Esatto, D è l'operatore di cancellazione. Il movimento indica dove l'operatore va applicato. E c'è ad esempio W, come vi ho detto, E che sta ad indicare la fine della parola corrente. E' il segno del dollaro che sta ad indicare la fine della riga. Quindi se batti da cancelli dal cursore fino a fine parola. Se batti solo in movimento mentre sei in modalità normale, senza nessun operatore, il cursore si muoverà come specificato. Io vi ho fatto l'esempio con W oppure con il segno del dollaro. Ok, uso di un contatore. Adesso, se vogliamo cancellare, se vogliamo spostarci di due parole, guardate. Vi ho fatto vedere che con W ci spostiamo sempre all'inizio di una parola. Bene, se invece premo due W, mi sposto non nella successiva parola, ma nell'altra ancora, nella seconda parola. Tre E sta ad indicare non la fine di questa parola, ma piuttosto la fine di quest'altra parola. Va bene, batti 0 per posizionarti all'inizio della linea. Quindi con 0 ci spostiamo ad inizio linea. Con il segno del dollaro, dopo il ripeto, ci spostiamo a fine linea. Ok, vai alla lezione 2.5. Uso di un contatore per cancellare di più. Se batti un numero prima di un movimento, lo ripeti altrettante volte. Ad esempio, guardate. Se premo 4J, non vado alla linea successiva, ma mi sposto di 4 righe in giù. Nella combinazione dell'operatore cancella e di un movimento descritto prima, inserite un contatore prima del movimento per cancellare di più. Quindi D, numero, movimento. Se facciamo D, 2, W, andiamo a cancellare due parole. Ok, quindi, correggiamo questa linea. Questa, ci mettiamo sulla A, e come vedete sono due le parole che dobbiamo cancellare. A, B, C, E, D, E. Quindi D, 2, W. Questa linea, adesso sono 4 le parole che dobbiamo cancellare. Quindi D, 4, W. Questa linea di parole è, adesso sono 3 le parole che dobbiamo cancellare, quindi D, 3, W. Questa linea di parole è ora ripulita. Andiamo in giù. Lezione 2.6. Lavorare su linee intere. Per la frequenza con cui capita di cancellare le linee intere, chi ha disegnato Vim ha deciso che sarebbe stato più semplice battere due D consecutive per cancellare una linea. Quindi, muove il corsore alla linea 2 nella frase qui sotto, batti DD per cancellare la linea. Siamo sulla seconda riga, batto DD ed ecco che è sparita. Ora spostati al numero 4 e batti 2 DD. Cosa faremo con 2 DD? Andremo a cancellare due linee. 2 DD. Ok, adesso abbiamo una bella poesia. Diamo la lezione 2.7. Credo che mi fermerò arrivati alla lezione 3. il comando undo. Poco fa avete visto che avevo sbagliato a correggere una linea o avevo cancellato tutto, adesso non ricordo nemmeno più. Comunque sono tornato indietro. Come si fa? Con la U. Premi U per annullare gli ultimi comandi eseguiti. Premi U maiuscola per annullare le modifiche all'ultima linea. Quindi adesso muoviamo il cursore fino alle linee qui sotto. Batti X per cancellare il primo carattere sbagliato. Corre E. Ci sono due E. Cancello la E. Adesso batti U per annullare l'ultimo comando eseguito. Premi U. Guardate, abbiamo di nuovo la E. Ora invece correggi tutti gli errori sulla linea usando il comando X. Quindi con X cancelliamo la E. Cancelliamo la S, cancelliamo la U, cancelliamo la I, cancelliamo la O. Ok. Adesso con U maiuscola, guardate, tutti gli errori sono di nuovo là. Quindi abbiamo annullato tutte le modifiche a questa linea. Adesso batti U più volte per annullare la U maiuscola appena premuta. Va bene. Vedete che piano piano ricompaiono tutti gli errori. Oh, oh, adesso mi sono spostato troppo in alto. Quindi dove eravamo? Qua. Ok. Adesso batti più volte CTRL R per rieseguire i comandi. Cioè con la U facciamolo undo. Con CTRL L ripetiamo i comandi di cui avevamo fatto undo. Però mi sono spostato là. Vabbè, vedete che adesso con CTRL R avevo tolto di nuovo gli errori. Non so se è stato chiaro. Con U e con CTRL R in pratica andiamo a fare dei movimenti tra loro contrari. Andiamo avanti oppure indietro. Benissimo. Abbiamo il sommario e poi ci fermiamo qua. Direi che il video è abbastanza lungo. Avete bisogno sicuramente di fare, di eseguire tutti i passi da voi. Non solo guardando il mio video. Comunque credetemi ne vale la pena perché Vim vi permette di muovermi molto velocemente. Di portare delle modifiche a dei file che prima nemmeno potevate immaginare. Richiede un po' di tempo per maneggiarlo bene ma ne vale la pena. Quindi ripetiamo. Per cancellare dal cursore fino alla parola seguenti batti DW. Per cancellare dal cursore fino alla fine della linea batti D, segno dello dollaro. Per cancellare una linea intera batti DD. Per eseguire più volte un movimento mettici davanti un numero, ad esempio 2W. Il formato per un comando di modifica è, prima l'operatore, ad esempio D, poi il numero, ad esempio 2, e poi il movimento, ad esempio W. Esatto. L'operatore indica il da farsi, ad esempio D per cancellare. Il numero è facoltativo e indica quante volte dovrà essere ripetuto il movimento. Il movimento è lo spostamento nel testo su cui operare. Ad esempio V è la parola, segno del dollaro è la fine della linea, eccetera. Bene, per andare a inizio linea usate uno 0. Per annullare i comandi precedenti premiamo la U maiuscola. Per annullare tutte le modifiche su una linea premiamo la U maiuscola. Per annullare l'annullamento premiamo CTRL R. Va bene, direi che questo è tutto, per oggi ci vediamo al prossimo video con la lezione 3.1. Ciao da Clarintux.